Il lavoro nobilita lo schiavo. Ebbene sì, in realtà l'uomo dovrebbe essere molto, molto di più di ciò che fa, infinitamente di più di quanto realizza, di quanto sia utile l'uomo, l'essere umano, e anche di ciò che ha. Tanto ha e tanto vali, come disse Petronio, potrebbe essere una considerazione pratica, cioè si può fare in funzione delle proprie possibilità, ma le proprie possibilità dovrebbero dipendere, anche esse, come a maggior ragione l'identità, dall'essere, non dal fare o dall'avere. E dal momento in cui ci si ricorda che si prende coscienza di sé, il primo atto positivo è o dovrebbe essere quello di affermarsi, di imporre e perfino pretendere la propria dignità di essere. L'esistenza in ogni mondo dovrebbe essere una parte di noi, quindi tutto e tutti dovremmo essere noi stessi, ma se fossimo tanto grandi, o meglio, tanto coscienti da comprendere questa grandezza. L'esistenza, io diciamo che la suddivido in quattro E. Esprimersi, emanciparsi, evolversi, elevarsi, vivere per sé e da sé. Ora, in questa dimensione, in questo mondo, c'è qualcosa da fare perché c'è un tempo, un tempo, uno spazio e un tempo limitati, contingenti, e quindi si finisce per lavorare, operare, dimenticando troppo spesso che la funzione è quella di esprimersi, emanciparsi, evolversi, capire e quindi elevarsi, non quella di servire. Ora, andrebbe bene servire sé stessi, il proprio sé, tutti quelli in cui ci si riconosce i propri cari, per esempio, ciò che appartiene a te in quanto espressione di te, ma soprattutto riflesso di te stesso, allora ciò che si ama, chi si ama, e quel che amando si vuole, la propria casa, la patria materiale o spirituale, terreno, universale, il mondo, insomma, dove ci si rispecchia e dove potersi ritrovare. Ecco, essere sé stessi, quindi il proprio ideale, rappresenterebbe il tutto di sé. Ebbene, servire questa parte di sé, parte nel mondo, non è una schiavitù. Così come l'amore nobilita tutto quello che è pratico, quindi non è servile quel che è fatto per amore. Amore al di là del bene e del male, è anche qualcosa al di sopra, di ogni contingenza, di ogni necessità. come mi dissi già una volta, non c'è amore per necessità, io ho bisogno di te. No, l'amore è inteso come una non morte, quindi un'eternità propria, che si riflette nella propria coscienza. Una propria coscienza che poi si emancipa, si esprime, si evolve, si eleva in questa dimensione, anche in questa dimensione. Invece, servire ad altro o ad altri per estraneità da se stessi, per tirare a campare, sarebbe sia usura che schiavitù, in proporzione alla propria coscienza di sé o consapevolezza divina, ovvero partecipazione dell'essere. Quanto partecipa dell'essere una persona, un animale, una cosa, una macchina, tanto può rendersi conto se questo suo servizio, o il servizio a cui è adibito, o che sviluppa, anche volentieri, non necessariamente costretto, ma costretto comunque dalla necessità della dimensione spazio-temporale del mondo in cui vive, si rende conto quindi della capacità di rendersi conto di se stesso. A seconda di questa capacità, di questa coscienza di sé, si determina quello che è in fondo una schiavitù, per cui l'unica nobilitazione che può dare il lavoro è quella, che so, la gratificazione del padrone, la concezione di essere servito, né più né meno come una macchina. Tempo fa fu un film, per esempio, ma ce ne sono tante, sono opere letterarie e un film in particolare si chiamava L'uomo bicentenario, lo cito così poi, era un esempio di questo, cioè una presa coscienza del proprio essere, una macchina non può più tollerare l'ingiustizia di un trattamento e condizione da robot, da schiavo, da serbo. Noi una macchina, un camion, lo mettiamo in moto, lo usiamo tranquillamente a nostra discrezione, perché è una macchina. La stessa cosa si faceva, si fa ancora, con gli animali, il mulo, il bue, ma lì già c'è una considerazione, dovrebbe esserci una considerazione del sentimento, della capacità dell'animale di sentire il dolore, il piacere, la fatica e quindi diverso dal concetto di macchina. Cioè nonostante non si riconosce, o meglio, finché non si riconosce una coscienza di se stessi, non si riconosce uno stato di schiavitù. Coscienti di sé, si vuole e si ama, si è degni di vita propria, coerenti al proprio essere, intelletto e cuore. Non solo per la durata, la qualità, la modalità della vita, ma, come dire, da pari a dominatore, demiurgo e creatore del mondo dove vivere. Non è l'uomo che voglia farsi Dio, è l'uomo che vuole essere, riconoscersi, ovviamente, essendo riconosciuto. Quindi non attraverso ciò che fa o ciò che ha, perché ciò che fa o ciò che ha dipendono da chi è. Dovrebbe essere, quindi, coerente, l'espressione pratica, anche contingente, di una persona in funzione di chi è. Ora, riconoscere, affermare, pretendere questa coscienza di sé, non riconosciuti da altri, ma riconosciuti da se stessi, quindi una propria, totale, assoluta identità che si esprime, si emancipa, si evolve, si è eleva dal concetto quindi di umano, uomo, a un concetto divino, è sacro santo. D'altra parte, non dovrebbe dipendere da nessun altro se non da se stessi, perché solo chi è davvero più grande e migliore può comprendere, quindi a maggior ragione è inferiore, è ingiusto chi sfrutta, chi finge di non dover riconoscere una considerazione identitaria, un essere, fingendo, o peggio, consapevolmente, per sfruttarne l'ignoranza, la debolezza, la paura, la limitatezza umana. D'altra parte, non è più grande di te un uomo che non, una persona, un uomo che non può comprenderti, a maggior ragione come uno schiavista che sembrerebbe il padrone, in realtà ha bisogno di schiavi, se ha bisogno di schiavi per essere il padrone allora è più schiavo di tutti loro. è una questione per carità concettuale, poi ci sono le servitù, ci sono le collaborazioni, un essere piace esprimersi in un certo modo, fare una certa cosa o possiede determinate cose che possono essere utili a un altro in simbiosi e ci si può non non voglio dire usare ma ci si può si può collaborare per potersi esprimere entrambi uno o più quindi tenete presente che come tutto a me è un'idea questa come tutto non è l'essere che deve dipendere è tutto che dipende dall'essere e più si è cosciente del proprio essere meno si dipende la schiavitù dunque non è determinata dalla forza del padrone nemmeno dalle necessità o dalle contingenze è determinata dalla debolezza dello schiavo libertà